Eccoci qui tornati di nuovo con la nuova capolata. Oggi proviamo a misciolare solamente tre cose ma abbastanza lisce. Abbiamo ginger san benedetto, abbastanza... ...ma bello perché di base non fa schifo però. Vediamo adesso. Latte, diciamo che è un must di nino noi di Andrea, che ci fa poi sempre messo. E gibo, non so se si vede. Vino aromatizzato al vov, all'uovo con marsala, scusa. Una bomba. Naturalmente Samuele qua ci mette la mella. Senti che... Altro che birra. Se volete aggiungere l'1% di fantasia con... Pinoli. No. No, con il pesto. Si, no. Sa, al posto dell'ombrellino. Non si parla dei fallimenti epici. Al posto dell'ombrellino. Lasciate stare che è l'unico carciopo della nostra campagna. Uscita. Non è una campagna che fruttano. So, per dire bella grande. Dovrei far cannappole cose. Scusate. Vorrei far vedere il casino che sta facendo questo ragazzo. Sai che dalla prossima faccio io? Do tutto. Dalla prossima tu filmi la sera Andrea. Tanto quello schifo di ripresa che faccio vuole un'altra persona che lo guardi. Non sono molto tremolanti ora che sto ridendo. Questa volta forse non c'è bisogno neanche il bicchiere. No, lo beviamo a mezz'aria. Non le bicchiere, le cucchiaini. No, cazzo Mario. Guarda come è rimasto inquiettante. Inquiettante? Ok. Non mi aspettavo questo effetto tecnico. È abbastanza orribile. Cucchiaini. Si, cucchiaini. Ma perché non hai preso un po' di cucchiaini? Cucchiaini. Cucchiaini. I nostri cucchiaini. Abbassati. Soprattutto il suo. Guarda come si inicia un bene. E' quello di più. Stai guardando un minuto. Si. Dunque per un bacio un minuto può essere affattato. Facciamo una cosa. Non lo odoriamo prima. Come non lo odoriamo? Intendolo quel gerale. Chi me lo avvicina se mi farlo. No. Non gerale però, Andrea. Io no. Com'è? Non sembra così male in realtà rispetto a tante altre cose? E' presente tipo quando prendi un frappe di gelato a qualcosa? E' presente quando muori. C'è quello che è strano. Quell'odore di carcasse interiore. Sembra semplicemente latte. Caffè latte. Ma non è caffè. E' vino. E' questa roba. Questa è l'incitatrice che c'è sopra la mia. Oh, siamo già a tre minuti e venti. Si chiama Pingo. Si chiama Pingo. Alla vostra. E' anche alla vostra. Ok. specie. All'inizio non sembrava malissimo. Ma ti lascia questa merda in bocca. Crostata. E' come se prende una pattugliera e comincia a scolartela. Beh, pare rifinare. Oddio, meglio di certe cose. E' un fallimento epico che forse un giorno dovrete. Però... Fa schifo. E' bello. E' buono. Non so, but it's so good. E' abbastanza. Guardate ancora una buonanotte. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio.